Musica Benvenuti a questa nuova edizione del Tg Oristanese. Oggi apriamo il Tg con la cronaca. Tragedia sfiorata questo pomeriggio lungo la linea ferroviaria tra Oristano e la frazione di Sidì. Secondo quanto si è preso, una betoniera della società cagliaritana Calcestruzzi è rimasta bloccata all'interno del passaggio a livello poco prima dell'arrivo del treno. A precederlo un'altra betoniera e due veicoli. Quando è scattato il verde i mezzi si sono messi in movimento. I primi tre sono riusciti a passare ma il terzo è rimasto bloccato sulle rotaglie. L'autista è riuscito a mettersi in salvo col mezzo sfondando una delle barriere come gli ha chiesto un operaio di rete ferroviaria italiana presente sul posto dove è intervenuta subito dopo la polizia ferroviaria. Sabato 28 luglio un incendio ha interessato le aree agricole di Nuracciolo a Terralba. Dalla base di Fenoso è arrivato un elicottero mentre a terra gli agenti della stazione di Marrubio hanno diretto le operazioni e partecipato allo spegnimento con le squadre di Forestas, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile di Marrubio. E ora voltiamo pagina. La questura di Ristano prosegue i controlli su locali e strade. 238 persone identificate nella notte di sabato 28 luglio. Alcuni erano pregiudicati. Vediamo. Nella notte di sabato 28 luglio la questura ha effettuato diversi controlli amministrativi in numerosi esercizi pubblici di Oristano, Cabras e Santa Giusta e nel corso delle verifiche sono state riscontrate alcune irregolarità per cui si provvederà al vaglio per le successive sanzioni. Prosegue infatti l'attività della Polizia di Stato finalizzata a intensificare i controlli sia in città che in ambito provinciale. Oltre ai controlli amministrativi è stata rinforzata l'attività di patugliamento del territorio per mezzo dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico anche al fine di prevenire furti in appartamento e altri reati predatori con l'ausilio delle unità cinofile. Tema piuttosto caldo soprattutto nella città di Oristano dove dopo un periodo di pausa solo la settimana scorsa si sono nuovamente verificati furti domestici nel quartiere di Torangius. Al servizio ha preso parte anche la squadra mobile che ha effettuato attività di specifica competenza in ambito cittadino finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori. Il personale della Polizia Stradale ha invece lavorato per garantire prevenzione e contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Nel corso della giornata sono state impiegate 14 pattuglie ed effettuati 13 posti di controllo per un totale di 238 persone identificate di cui 33 pregiudicate. In particolare nei locali di intrattenimento sono state identificate 34 persone delle quali 12 sono risultate pregiudicate. Nei prossimi giorni continueranno i servizi che interesseranno soprattutto le zone costiere. Questa mattina si è verificato un guasto nell'acquedotto di Oristano con una sensibile diminuzione di risorse in arrivo ai serbatoi di Tramazza, sola russa, sia maggiore, massa, manuragini edu e a quello di Sarodia a Oristano. Il guasto è stato riscontrato in un tratto in territorio di sia maggiore. I lavori di riparazione sono già in corso. In via Versilia numero 63 Oristano è presente un autobotte di Abanoa per servizio alla cittadinanza. E ora passiamo ad un altro argomento. Possibile chiusura del laboratorio analisi di Ghilarza. L'Ase di Oristano ha risposto. Nessuna variazione per gli utenti. Vediamo. Nuovamente sotto i riflettori, il laboratorio analisi di Ghilarza. Della sua possibile chiusura ne è stata data notizia. Deciso il segretario provinciale del sindacato CISL, Salvatore Seoni, ad inviare alle direzioni della TS Sardegna e dell'Ase di Oristano una nota sulla sospensione e riorganizzazione dell'attività del laboratorio. La replica dell'Ase di Oristano non si è fatta attendere. In merito alle notizie riguardanti la sospensione dell'attività, si legge in una nota, si precisa che tale riorganizzazione, causata dalla contemporanea assenza di diversi medici di laboratorio, ma transitoria e non definitiva, in attesa dell'attuazione della rete e dei laboratori analisi, non comporterà alcuna variazione nel servizio reso agli utenti. I prelievi saranno infatti regolarmente effettuati all'ospedale del Logo di Ghilarza e i campioni saranno inviati con due trasporti quotidiani di routine al laboratorio analisi di Oristano, che le analizzerà e invierà i referti, peraltro consultabili, anche online, allo stesso nosocomio per il loro ritiro. In caso di esami da eseguire con urgenza, continua la notta, è stato inoltre predisposto un servizio di trasporto ad hoc che partirà tempestivamente quando se ne presenti la necessità. Si tratterà quindi di una riorganizzazione interna che non inciderà sul servizio reso ai cittadini, in quanto il personale dei laboratori analisi continuerà a garantire l'effettuazione delle analisi nel rispetto degli standard di qualità. Sono stati assegnati alla Sardegna 1.783.000 euro prelevati dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali del 2017, soprattutto per l'evento siccitoso che ha caratterizzato l'anno preso in considerazione. Il deputato di Unidos, Mario Pili, denuncia l'uso improprio che è stato fatto del terreno che comprende gli scavi di Monte Brama. Vediamo. Duracusa, da parte del deputato, Mauro Pili, cerca l'utilizzo dei terreni addibiti a viticoltura nell'area che comprende gli scavi di Monte Brama. Quattro anni fa, con un'interrogazione parlamentare circostanziata, avevo chiesto al ministro Franceschini l'acquisizione dei terreni per evitare l'impianto dei vigneti sopra la collina dei giganti, scrive il leader di Unidos in una notta, ma lo Stato non fece niente per bloccare la speculazione. Ecco dunque la denuncia alla Procura per verificare l'omissione di atti d'ufficio e favoreggiamento della speculazione su quelle aree. I giganti riaffiorano tra i vigneti appena piantumati sulla collina di Monte Brama. Non si tratta di una scoperta, ma di una conferma, scrive Mauro Pili. Gli archeologi delle Università di Sassari e Cagliari lo avevano affermato con assoluta certezza già quattro anni fa quando attraverso il georadar avevano individuato l'intero insediamento. Già allora, misi nero su bianco, l'esigenza e l'urgenza di acquisire immediatamente tutte le aree circostanti il sito archeologico, per il rischio di speculazione che si correva se non fosse stato imposto urgentemente il vincolo archeologico. Soprintendenza e ministro non fecero niente e consentirono a un nuovo acquirente dei terreni di piantumare un vignetto proprio sopra il potenziale e vasto giacimento archeologico di Monte Brama. Aver rivenuto in questi giorni in mezzo ai vignetti appena impiantati il proseguo della straordinaria area archeologica di Monte Brama, è la conferma che con quel silenzio si è favorita una speculazione senza precedenti, cui terreni acquistati a 8-10 mila euro a ettaro, oggi ne valgono 40-50 mila a ettaro. Una speculazione in piena regola. Ora occorre spropriarli con urgenza proprio perché non si può disperdere quel grande patrimonio archeologico noragico che può riscrivere la storia del Mediterraneo e del popolo sardo. Per questa ragione, conclude Mauro Pili, ho deciso di trasmettere tutti gli atti parlamentari alla Procura della Repubblica di Oristano perché indaghi sulla mancata apposizione del vincolo archeologico in tutta quell'area. Oggi, lunedì 30 luglio, alle ore 21.30, presso il giardino del Museo a San Verumilis, proiezione di assalto al cielo. Il film documentario di Francesco Munzi aprirà la rassegna cinematografica agli anni del 68 di Dromos Festival con la collaborazione dell'associazione culturale Lampalugis. E ora ci spostiamo a Santa Giusta. La spioggia di Abbarossa vede riconfermata la bandiera verde che la rende a misura di famiglie e bambini, numerosi, i servizi offerti. Vediamo. Il Comune di Santa Giusta intende garantire i servizi necessari per la fruizione della spiaggia di Abbarossa che per il terzo anno consecutivo con la bandiera verde 2018 è riconosciuta spiaggia ideale per famiglie e bambini. Nello scorso mese con fondi di bilancio comunale sono state sistemate le strade di accesso alla spiaggia. Dichiara con un comunicato il primo cittadino Antonello Figus e sono state allestite alcune postazioni di bagni pubblici che il Comune ha provveduto a montare e collegare alla rete idrica del Consorzio Industriale. L'amministrazione ha poi disciplinato una sorta di manuale comportamentale ed alcuni divieti indispensabili per garantire a tutti gli utenti un piacevole soggiorno nel rispetto dell'ambiente circostante. La pulizia del litorale è garantita anche grazie alla collaborazione della sezione Avis Locale e diversi volontari. Non manca però una velata critica da parte di Figus nei confronti della regione che ancora non ha comunicato la somma che dedicherà per il litorale in merito alla sicurezza dei bagnanti. Ecco perché si è provveduto con fondi propri di bilancio ad attrezzare il litorale con alcune postazioni per garantire il salvamento a mare dotandole per la prima volta di un defibrillatore fornito dall'Unione dei Comuni di Finici. Da ieri 28 luglio fino a domenica 5 agosto sette scultori provenienti dall'isola e dalla penisola ma anche da Germania Olanda Slovenia e Turchia si incontrano a Fordongianus per il simposio della pietra Trachite a loro disposizione una settimana di tempo per poter creare la propria opera. Nel fine settimana lo spettacolo della luna tinta di rosso ha lasciato tutti per ore con naso in su vediamo il punto di Paolo De Souos Spettacolo insolito venerdì scorso per l'eclissi totale della luna un fenomeno durato alcune ore con milioni di persone coinvolte ad osservarlo grazie alla diffusione dei diversi mezzi di ripresa per ore ad osservare il progressivo oscuramento dell'astro più vicino alla Terra ma anche considerata la luminosità della serata i pianeti come Giove Saturno Mercurio Venere Marte pianeta scandagliato in tutte le sue parti la luna per una disciplina l'astronomia che raccoglie schiere di appassionati sempre più numerose grazie anche alla diffusione di discipline diverse ma altrettanto appassionanti e coinvolgenti come l'archeoastronomia più semplicemente nell'uristanese ci si è soffermati ad osservare la luna che progressivamente si tingeva di rosso avendo sullo sfondo la catena del Monte Arci luogo simbolo per la lettura di astri e pianeti accanto il crepuscolo della sera colorato dai fenicotteri che ancora stazionano negli specchi d'acqua temporanei prima della migrazione notturna verso altri pascoli domani 31 luglio il sindaco Andrea Luzio e l'assessore al bilancio Massimiliano Sanna presenteranno i progetti finanziati attraverso il bilancio partecipato la conferenza stampa si terrà martedì 31 luglio alle 10.30 nella sala giunta del palazzo Campus Colonna e ora ci spostiamo a Cavras è stato approvato dal comune il progetto Sinis Lavoras col quale tramite un bando regionale si potrà procedere l'assunzione temporanea di nove operai vediamo la giunta del comune di Cavras ha approvato il progetto denominato Sinis Lavoras nell'ambito del programma integrato plurifondo per il progetto Lavoras della regione Sardegna che consente a comuni unioni di comuni città o retti metropolitane di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento attraverso la presentazione di progetti di cantiere sulla base di risorse preassegnate con uno stanziamento di 189 mila euro a favore del comune di Cavras verranno assunte nove persone disoccupate di cui due muratori un giardiniere e sei operai il 30% dei nove operai saranno donne non si tratta di assunzioni socialmente utili ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Alessandra Spano l'assegnazione avverrà tramite l'Aspal l'agenzia sarda per le politiche attive del lavoro la durata dei contratti di lavoro coperta da risorse del programma Lavoras è stabilita in otto mesi con un orario di 20 ore a settimana tale da garantire l'accesso alla Naspi indennità di disoccupazione alla conclusione del cantiere I cantieri che partiranno probabilmente tra gennaio e febbraio saranno localizzati nelle aree urbane rurali e umide e nei litorali nell'ambito del territorio comunale e saranno tesi alla riqualificazione ambientale con l'eliminazione e la rinaturazione delle discariche abusive di rifiuti solidi urbani attraverso flora tipicamente mediterranea La partecipazione ai bandi regionali ed europei ha sottolineato l'assessore Spano è fondamentale per poter portare avanti i progetti che da un lato favoriscano lo sviluppo e la rivalutazione del territorio e dall'altro creino occupazione Ora torniamo ad Oristano si è svolto sabato 28 luglio a Torre Grande l'evento denominato Mare Amico vediamo Una vera e propria gara in mezzo alla troppa immondizia quella che i bagnanti sono costretti a fare se scelgono una spiaggia libera per non mettersi seduti fra scarti di ogni genere è questo perché ormai invece delle conchiglie a farla da padrona sui nostri litorali ci sono plastica a vetro mozzicoli di sigarette o pezzi di metallo rifiuti gettati consapevolmente o che provengono dagli scarichi non depurati sabato 28 luglio si è svolto presso Torre Grande l'evento denominato Mare Amico organizzato dall'assessorata all'ambiente del comune in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio due gli obiettivi principali realizzare un'azione concreta per migliorare la qualità del nostro litorale sensibilizzare e richiamare l'attenzione dei turisti e della cittadinanza sulla necessità di comportamenti corretti e rispettosi del grande patrimonio comune che è il mare questo intervento vuole rappresentare un aiuto concreto alla protezione dell'ecosistema marino sempre più minacciato dalla presenza di rifiuti che sono dispersi in acqua o giacciolo sui fondali ha dichiarato l'assessore Gianfranco Liccheri si configura come un progetto di alto valore sociale ed economico per la salvaguardia e il corretto ripristino dell'ambiente marino al fine di preservarne le biodiversità coniugando tutela ambientale e crescita economica legata alla risorsa mare e questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese grazie di essere stati con noi buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti